Fino all'anno scorso la fondazione che esisteva già da diversi anni pensava soprattutto a organizzare la formazione professionale continua obbligatoria e abbiamo ritenuto importante invece proprio in questo momento di generale crisi di generale emergenza potersi mettere a disposizione con le nostre capacità aziendali che quindi dovrebbero essere quelle a cui rivolgersi in questo momento di crisi economica appunto con varie iniziative. È in un momento di generale difficoltà economica che la categoria dei commercialisti ha deciso di confermare la propria vicinanza al territorio e alla collettività e lo ha fatto mettendo a disposizione 30 professionisti per ricoprire incarichi di componenti dei consigli di amministrazione in aziende partecipate pubbliche e parapubbliche con rinuncia a compensi e indennità. Questo credo che in un momento di crisi generale dove appunto c'è anche difficoltà da parte dell'amministrazione pubblica di reperire risorse per poter compensare queste prestazioni. Da parte di terzi ecco che invece la categoria dei commercialisti con soggetti esperti riteniamo di aziende, esperti di problematiche proprio delle società partecipate possano appunto prestare la propria opera in favore indirettamente della collettività perché appunto tramite per il fatto che rappresentano delle partecipazioni pubbliche e quindi diciamo questo qui può portare un beneficio sicuramente alla collettività. Partecipate di tutta la provincia di Arezzo? Di tutta la provincia infatti in questi giorni poi seguirà una comunicazione da parte della fondazione a tutte le amministrazioni comunali della provincia di Arezzo dove appunto spieghiamo questa disponibilità volendo c'è questa possibilità di nominare iscritti agli albi dei dottori commercialisti che hanno esperienza, che sono iscritti da più di 5 anni quindi hanno esperienza particolare del settore a costo zero. Ma le iniziative per il 2018 della fondazione pensano anche ai più giovani. Quella di avere diciamo organizzato una borsa di studio di 3.000 euro in memoria di un nostro collega particolarmente importante, il professor Giuseppe Marmorini e quindi in memoria di lui su operazioni, relazioni o studi su operazioni straordinarie poter appunto concorrere alla formazione e anche all'aspetto economico di questi giovani colleghi con 3.000 euro sempre a carico della fondazione per la maggior parte.